A due giorni dal 16 ottobre, data di pagamento della terza rata dell'Atari, i consiglieri comunali di centrodestra hanno sollecitato il Comune a comunicare alle famiglie pesaresi quali di queste avessero beneficiato del fondo anticrisi che le esentasse di metà del pagamento della tassa comunale sui rifiuti. Un ritardo grave, secondo i consiglieri, vista l'impellenza della terza rata. Il sollecito, sotto forma di comunicato stampa, ha portato il Comune nella giornata odierna a rispondere tramite l'assessore ai servizi sociali Luca Pandolfi in base all'esito del bando per il quale il Comune ha stanziato 300.000 euro di fondo anticrisi. Secondo Pandolfi sono state 1.367 le domande pervenute agli uffici comunali e di queste ne sono state accolte 1.800. 15 le domande doppie, 73 quelle rigettate per mancanza dei requisiti. Secondo lo stesso assessore, le famiglie che non sono rientrate nell'avviso pubblico e che non riceveranno i contributi dovendo pagare la rata di ottobre sono già state allertate dagli uffici. Ci sono poi 270 domande per le quali si sta verificando l'esistenza delle condizioni di piena solvenza delle bollette precedenti e rispetto dei requisiti tra cui quello del valore Isee.